Sfida tutt'altro che indimenticabile a Gustavo Ventura con il pari finale senza reti tra Bicelli e Siracusa a rispecchiare fedelmente gli esigui contenuti tecnici offerti dalle contendenti. Lo scontro diretto in chiave e salvezza delude le attese della vigilia ma è utile ai nerazzurri per collezionare il quinto risultato positivo di fila ed ampliare ulteriormente il margine sulla Paganese travolta a Cava. Vanoli recupera l'esterno destro Triarico ed inserisce dal primo minuto Cuppone al fianco di Starita in prima linea al posto di Jovanovic. Sul fronte opposto spicca la presenza tra i pali dell'ex Crispino, estremo nerazzurro fino a due mesi fa. Gara dei ritmi non trascendentali ed infarcita da numerosi errori di impostazione su ambo i fronti. Al sedicesimo la punizione di Triarico è raccolta di testa in area da Longo con traiettoria smorzata dal contrasto di un avversario. Un minuto più tardi il rasoterra velenoso dai 20 metri di Vasquez è smanacciato da Cerofolini e sui sviluppi del successivo corner il tentativo di Daffare neutralizzato da Risolo. La veletaria inzuccata del centrale retuseo di Sabatino oltre la traversa precede la migliore chance di marca Bicegliese alla mezz'ora. Rapida combinazione sull'asse Triarico parlati Starita e conclusione sotto misura in corsa di quest'ultimo disinnescata da Turati. L'ultimo spunto prima della pausa è offerto dall'incursione sulla fascia destra di Daffara il cui tiro cross attraversa tutta l'area piccola nerazzurra senza trovare la correzione vincente di alcun compagno. La ripresa è ancora più scarna sotto il profilo delle emozioni con due squadre evidentemente appagate dal risultato. Al quattordicesimo il piazzato dalla destra di Triarico è agganciato con il petto da Longo prima dell'intervento senza patemi di Crispino. Il Siracusa si difende con ordine mentre i padroni di casa non riescono più a creare azioni degne di nota. Al tripice fischio del campano Garofalo tra le note positive in casa Bicegliese c'è il periodo di imbattibilità della porta di Ceroforini salito a 401 minuti.